Ruggiflex, ci trovi a Cava dei Tirreni, in via Gaetano a Carino 37, telefono fax 089 46 27 62. Siamo con Alfonso Senatore, coordinatore regionale di Meridione Nazionale, un volto notissimo nella città di Cava dei Tirreni per la lunga militanza politica, per tornare ancora una volta sulla questione della fuoriuscita di Meridione Nazionale da Fratelli d'Italia, o meglio degli esponenti di questo movimento da Fratelli d'Italia. Ci sono varie ragioni, quali possono essere sintetizzate tutte insieme? Per sintetizzarle basta dire che questo non è destra, la Fratelli d'Italia non è destra, non è centrodestra, la Fratelli d'Italia è tutta un'altra cosa. Chi candida delinquenti, indagati, si tiene la Santa Che, va a prendere all'aeroporto un condannato all'ergassolo, questo non è, Almirante non avrebbe fatto una cosa. Per Almirante, quelli di noi che si macchiavano di qualsiasi reato, era previsto l'ergastolo e quindi non si discute proprio. Non potevamo rimanere a livello locale e tale quale, perché tanto di tutto conto è Roma e Roma è la cartolina proprio di quello che accade poi nei comuni. E ne parleremo più là dei soggetti che ci stanno perché bisogna fare piazza pulita. Lei in particolare è solito emanare un comunicato quasi al giorno, si può dire. Quali futuri punto vede per la politica che avesse e quale sarà il ruolo di meridione nazionale? Centrodestra, centrosinistra è la stessa cosa. Oramai questo è un sistema, un sistema consociato, si chiamano per nomi Nunziettino, Peppino, Gennarino, la Giorgia. Non è possibile andare avanti così, la gente è sfiduciata, la gente non andrà più a votare e credo che ci sarà questa grande rivoluzione. Nelle prossime elezioni europee non andranno a votare più del 50%, sarà la rivoluzione civile che è l'unica che è rimasta. Ma il problema più grosso è che a livello locale destra e sinistra sono la stessa cosa. Sono il buon malascrino, li avrebbe definiti arrocchia bambane e li trattava bene perché sono anche peggio. Quindi noi siamo per una terza via, fuori da questa centrodestra che non è centrodestra. È mai possibile con tutto il rispetto per le persone, è un problema politico non personale. Giordano, Muro, la compagna Bella, sindaco da questa parte, questo è il Muro, lo dove, la seconda sconfitta. O se vinci, vinci con questi elementi. Il paese entra alla rovina. Noi ci preoccupiamo di Cava. Io in modo particolare mi preoccupo dei figli e dei nipoti nostri. Ne avrò uno fra 15 giorni. Non possiamo lasciare questa melma, questo che è un immondezzaio partitico, neanche politico. A sinistra abbiamo visto che cosa è stato Servalli. Certo, io penso che questi qua saranno addirittura peggiori se dovessero arrivare, ma non ci arriveranno. La terza via è unire tutte le forze sane, quelle che stanno al balcone, i migliori, stanno al balcone. È colpa anche loro se non scendono. E non scendono perché è una marmaglia la partitica attuale. Noi facciamo riferimento a queste persone, le donne, ai padri, ai fratelli, ai figli di queste. Che non vogliono lasciare un paese morire come sta morendo Cava dei Tirreni. E allora noi faremo un civismo, mi auguro, molto largo. Molto largo. E tenete presente che il civismo è il male dei partiti. Non è un bene. Ma adesso non c'è altra via. Tra il male a destra e il male a sinistra c'è bisogno di creare un qualcosa di nuovo. che ha appunto questa grande formazione di tre, quattro, cinque civiche con un sindaco illuminato, migliore, che non è il sottoscritto. Io mi limiterò a difendere questo paese, come ho sempre fatto dalla nascita. Bisogna dare l'esempio. In questo paese mancano gli esempi. Anzi, ci sono i cattivi esempi, i peggiori esempi, che vengono dai vertici a scendere giù. Io mi limiterò come editoria nazionale a essere l'ultimo baluardo di difesa da quello che è il centro-sinistra, che comunque andrà all'opposizione, e il centro-versa che andrà all'opposizione. E dare una mano a che questo paese possa essere governato, ma soprattutto che vengano difesi i cittadini e i figli, e i figli dei figli di Cava dei Tirreni.